Un'anteprima a ingresso libero, Piero Chiarini. Sì, come tutti gli ingressi che facciamo. Quest'anno abbiamo pensato di diluirlo in vari mesi, partiamo da maggio fino a ottobre-novembre. Quindi non abbiamo concentrato tutto nel mese di ottobre, abbiamo fatto questa scelta, non solo. Ci sarà, ritornerà il cinema in piazza Martiri, tre giornate ad agosto, il concerto di musica da film a settembre e ottobre. Sono tante iniziative perché abbiamo anche la possibilità di lavorare meglio, di stare più vicino ai nostri concittadini. E' un momento anche di reagire, so che la situazione non è bella, è drammatica. Appunto perché è drammatica cerchiamo di stare uniti e di alleggerire anche un po' di questi pesi. Lo spettacolo di Cinzia Leone è uno spettacolo comico, lei è una popolare attrice comica. Sì, lei è una forza della natura, è una grandissima attrice, però come si sa, a parte che ha fatto grandissimi film, ha fatto quello più importante, Parenti Serpente con Monicelli, è un'attrice di valore, è una grande amica della nostra provincia, della nostra città, è venuta tante volte e noi oramai la consideriamo una terramana acquisita.